La guerra fredda La guerra fredda Ma pare che a Joy piaccia molto essere un umano Forse possiamo riuscire a trasformare il suo doppio gioco in un triplo gioco Prima di affrontarlo devi procurarti la bustarella giusta per corromperlo Pare che abbia un debole per i frutti di mare Ci possiamo lavorare Mi dispiace dirtelo ma questa battaglia non farà che peggiorare Sei una delle risorse migliori che ho Devi tenere gli occhi aperti Quindi devi avere dimestichezza anche con le armi più moderne Te la senti? Grazie Grazie